Niente li può fermare, neppure l'inverno. Il nuovo esercito di miserabili continua e implacabile a raggiungere l'Europa. Secondo l'Organizzazione Mondiale per le Immigrazioni, dall'inizio dell'anno i migranti giunti in Grecia e in Italia sono oltre 37.000 e dalla Grecia, passando la frontiera a Macedonia, come in queste immagini, prendono la rotta balcanica per raggiungere il nord Europa. Malgrado le pessime condizioni del mare, in molti continuano a imbarcarsi in canotti. Risale Astamani, l'ultimo naufragio di un gommone partito dalla Libia. Presi in considerazione i dati dell'inizio dell'anno, il 2016 si annuncia più pesante dell'anno scorso, quando scattò l'allarme. A settembre, con una riunione straordinaria dei ministri dell'interno europei, si era varato un piano di ricollocamento di 160.000 rifugiati, così da alleggerire i paesi in prima linea. Dichiarazioni di intenti, alle parole non sono seguiti i fatti e il ricollocamento dei richiedenti asilo procede con estrema lentezza, senza alleviare situazioni di estremo stress, come quella dell'isola di Lampedusa. Il Regno Unito aveva in un primo momento respinto il piano della Commissione per poi fare un passo indietro e promettere di accogliere nei prossimi 5 anni 20.000 rifugiati. Londra si è mostrata particolarmente sensibile alle richieste dell'ONG Save the Children, che chiede di accogliere almeno 3.000 bambini. La risposta di altri paesi, soprattutto dall'est Europa come Ungheria, è stata molto più dura. Budapest non solo non si è impegnata ad accogliere anche in un futuro prossimo rifugiati, ma ha innalzato un muro di 175 chilometri alla frontiera con la Serbia. Non è la sola. L'emergenza migranti ha fatto innalzare oltre 200 chilometri di barriera in Europa. La Bulgaria ha innalzato i suoi 30 metri di filo spinato al confine con la Turchia. La Spagna ha rinforzato la barriera a 18 chilometri per contenere gli arrivi nell'enclave di Theuta e Meliglia e la Grecia ha innalzato un muro a confine con la Turchia in prossimità del fiume Evros. Di fronte a un flusso migratorio senza precedenti, la Svezia ha deciso di rimpatriare fino a 80.000 persone che non abbiano diritto d'asilo. Stesso provvedimento è stato annunciato dalla Norvegia. Grazie a tutti.